Oggi siamo in questo bel giardino e stiamo guardando le piante autunnali prima del riposo vegetativo che ci sarà in inverno. Questo è l'elichriso che è una pianta che nasce soprattutto nei luoghi assolati e anche vicino al mare. Il nome deriva dal greco helios chrisos che significa sole d'oro. In effetti questa pianta è una pianta che serve per le dermatiti soprattutto le dermatiti seborroiche e le dermatiti dovute a problemi allergici. In questo momento chiaramente non ha i fiori perché fiorisce prevalentemente nel periodo estivo attorno alla giornata di San Giovanni, fine giugno, inizio luglio, però mantiene tutte le sue proprietà per l'inverno quindi possiamo utilizzarlo tutto l'inverno per questi problemi. Questa pianta si chiama saponaria, è una pianta che non va confusa con la silene alba perché quando non ha i fiori può essere confusa. La silene alba è una pianta che si può utilizzare come pianta edibile anche molto buona mentre la saponaria no perché contiene le saponine. Le saponine si trovano nella radice quindi occorre togliere la radice e sminuzzarla e può essere seccata e utilizzata anche per lavare le mani e i capelli. L'acanto è una pianta che in primavera è molto appariscente, ha dei bellissimi fiori, ora siamo in autunno, i fiori non ci sono più ma comunque rimane una pianta che è molto importante per il periodo autunnale perché le foglie hanno l'utilizzo per fare le tisane per fluidificare il catarro dei problemi bronchiali. In realtà poi l'acanto è una pianta che nell'arte viene molto rappresentata, è una pianta particolarmente emolliente ed è anche per questo che è di inverno molto importante perché viene utilizzata per fluidificare i catarri bronchiali quindi va tenuta in considerazione tutto l'inverno in infuso o in decotto. Per fare il decotto si usano le foglie o fresche o secche, se sono fresche ci vuole una quantità doppia perché contiene l'acqua, se si seccano chiaramente la quantità è inferiore, si mettono le foglie nell'acqua e si fa bollire per una decina di minuti. Per l'infuso invece si fa bollire l'acqua, si spegne e poi si mettono le foglie o i fiori e si lascia riposare per una decina di minuti. È una pianta che viene utilizzata molto per i problemi femminili, naturalmente va utilizzata in piccole dosi sotto controllo di un erborista perché è un pochino tossica, per cui è da utilizzare solo ed esclusivamente sotto controllo. Questi sono i suoi semi, la pianta poi andrà a fiore, la troveremo fiorita nel periodo di fine giugno, e infatti è una delle piante che vengono raccolte e inserite nel mazzolino di San Giovanni il 24 giugno. Ecco qui le foglie di borragine, sono delle piante, bellissime piante, con le foglie rugose. In questo momento non ci sono i fiori, che sono dei bellissimi fiorellini azzurri, dai quali escono poi dei semi, poi si estrae un olio che è molto importante dal punto di vista cosmetico. Foglie di borragine vengono utilizzate anche in cucina, naturalmente occorre non esagerare. Questi bei fiori gialli appartengono alla grindelia, che è una pianta molto interessante per l'autunno perché viene utilizzata per fare gli sciroppi per la tosse, come espettorante solidificante del muco bronchiale. È da tenere molto in considerazione tra le piante autunnali. La natura segna ogni cosa, il suo fiore è appiccicoso, come è appiccicoso il catarro bronchiale. Questa pianta è molto importante in questo periodo autunnale perché è una pianta che ha dei fiori, come vedete, che sono appiccicosi. Gli antichi già sapevano, appunto perché consideravano le piante dal punto di vista analogico, che sapevano che tutto quello che è appiccicoso può servire per fluidificare il muco, per cui è una pianta molto interessante da tenere in considerazione in questo periodo autunnale. Che l'issopo, una pianta che chiaramente in questo momento non è più fiorita, ha dei bellissimi fiori azzurri che vengono raccolti durante l'estate ed è una pianta molto interessante dal punto di vista autunnale, sempre per i problemi influenzali da raffreddamento, perché appunto serve anche questo per fare degli sciroppi contro la tosse. e quindi è da tenere molto in considerazione in questo periodo per prevenire e curare i problemi influenzali, raffreddamento e bronchiti. Ecco qui anche uno splendido esemplare ancora fiorito di finocchio. È una pianta appartenente alla famiglia delle ombrelifere, come vedete ancora bello in fiore e dai suoi semi si possono fare delle tisane dopo pasto perché servono i processi digestivi e quindi aiuta anche nell'eliminazione in questo modo dei gas intestinali. Ecco anche un bel esemplare ancora fiorito in questo autunno particolare perché in genere in questo periodo la pianta non ha più fiori ed è questa è una cicoria, una pianta molto interessante perché è molto depurativa. Questa pianta viene utilizzata per alleggerire il fegato da tutte le tossine presenti, tutte le tossine che si sono anche accumulate durante l'estate, quindi prepara il fegato all'inverno, quindi in questo periodo dell'anno la cura depurativa con la cicoria e altre piante che comunque sono depurative è molto indicata. Girando, girando abbiamo trovato anche questa pianta che sembra una pianta umile ma invece è una pianta molto interessante, è la malva. Una pianta che contiene tante mucillaggini, in questo momento siamo in autunno quindi troviamo solo la foglia, fine primavera, inizio estate troviamo il fiorellino, lavora molto bene sulle mucose, rende molli le feci e nello stesso tempo essendo emolliente si può utilizzare anche per i problemi della gola, quindi può essere utilizzata anche per tisane, contro il mal di gola insomma. Una pianta che può essere utilizzata anche ad uso cosmetico per lavarsi il viso perché pulisce anche le impurità del viso ed è una pianta anche depurativa. Ecco qui un'altra pianta che è umile ma in realtà è una pianta che ha tantissime proprietà, è una pianta molto emolliente e anche questa viene utilizzata per fare gli siroppi per i problemi bronchiali, soprattutto sciroppi per i bambini. Anche la calendula è una pianta della famiglia delle composite, è una pianta un pochino appiccicosa, una pianta è molto generosa, essendo molto emolliente viene utilizzata soprattutto per i problemi della pelle, per cicatrizzare, per gli arrossamenti della pelle, anche per gli eczemi. Viene utilizzata anche per via interna, è molto conosciuta per l'olio che viene estratto, l'olio lito di calendula che si utilizza ad uso cosmetico e per i problemi della pelle, quindi arrossamenti, bruciature, eczemi e problemi vari della pelle. Si può utilizzare anche in tisana, però il suo utilizzo più conosciuto è l'olio lito, che è l'origano maggiorana, che è una pianta che è originaria del Medio Oriente ed è simbolo di felicità. Viene utilizzata anche in tisana per stati ansiosi, in caso di agitazione, in caso di insonnia, può essere utilizzata anche per vertigini ed emicrania. È utilizzata in cucina, a volte al posto dell'origano, perché ha un sapore che è un pochino più delicato, però è una pianta che dobbiamo ricordare che non è da utilizzare in caso di gravidanza, perché è una pianta che è abortiva. Ha un profumo meraviglioso. Io la utilizzo spesso in cucina, sui cereali e anche sui legumi, perché lascia questo sapore delicato, che rispetto all'origano è molto più delicato e prende molto di più, insomma. Oggi siamo in un contesto molto bucolico. Sono a casa della Raffaella e ci sono appunto le galline. È un contesto che è veramente molto interessante ed è molto bello stare in mezzo alla natura in questo periodo in cui ci stiamo aspettando i regori invernali, per cui ci godiamo gli ultimi soli. Da ricordare che comunque anche durante l'inverno le passeggiate aiutano, la natura aiuta a superare il periodo invernale, insomma. Ecco qui di fianco un'altra pianta molto interessante. Questa è una pianta, è una salvia officinalis. Salvia, il suo nome deriva da salute. Infatti i romani volevano che ognuno avesse una salvia nel proprio giardino. Addirittura la scuola medica salernitana diceva perché deve morire un uomo che ha la salvia in giardino. Questo per indicare tutte le sue proprietà. È la pianta della donna perché contiene fitoestrogeni. Contenendo fitoestrogeni aiuta a regolarizzare le mestruazioni. Viene utilizzata anche nel periodo della menopausa perché sostituisce gli estrogeni che sono venuti a mancare. Poi ricordandoci gli antichi che avevano un approccio analogico possiamo vedere che la salvia ha la forma della lingua ed è anche rugosa come la lingua. E questo ci fa pensare che viene utilizzata per i problemi della bocca. Infatti, soprattutto in passato, sfregavano una foglia di salvia sui denti e i denti rimanevano puliti e l'alito rimaneva profumato. Tutto quello che riguarda la bocca quindi anche viene utilizzata per fare delle tisane per problemi alla gola. C'è da ricordare che non bisogna però abusarne perché contiene un alcaloide che è neurotossico che è il tuione. Però effettivamente bisogna consumarne delle quantità esagerate. Finiamo in questo boschetto in cui troviamo anche questa pianta di alloro. La pianta di alloro è una pianta da sempre sacra infatti era stata consacrata agli dèi. Da questo deriva anche il nome di laureato da laurus nobilis. Ha delle proprietà digestive viene utilizzata in caso di mal di stomaco e in caso anche di meteorismo intestinale. Quindi abbiamo potuto vedere che l'autunno è una stagione che ci prepara all'inverno. Diverse piante ci aiutano a prepararci per i problemi che potrebbero insorgere durante la stagione invernale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.